Con chi ce l'ha in particolare, Sindaco? Ah, io ce l'ho con chi venne qui, io faccio nome e cognome, il Vice Presidente della Camera, venne qui penso... Luigi Di Maio? Eh sì, perché oggi si sta facendo un tour, ieri nel località di Mare, dove le persone stanno negli alberghi perché dice che deve recepire le istanze dei cittadini per farli metterezza sul decreto, dai ma non ci prendiamo in giro, no? Dobbiamo essere seri, dobbiamo essere seri, perché in quel momento ognuno di noi rappresenta un'istituzione, il Sindaco rappresenta le istituzioni, tutti rappresentiamo le istituzioni, io perché avevo fatto venire tutti i parlamentari qui e tutti erano venuti per cercare di lavorare affinché si migliorasse la gestione dell'emergenza e oggi scoprire di tour. Per portare le istanze dei cittadini, insomma, mi sembra una cosa che di fatto mette anche in cattiva luce il lavoro di tanti sindaci, di tanti uomini e di tutta l'intera classe politica che non ci dimentichiamo mai, che poi non siamo un paese che dimentichiamo, che per la prima volta nella storia l'intero arco parlamentare ha votato il decreto per il terremoto. Ha provato a cercare Di Maio? No. Voi poi siete quelli che siete partiti con me, faremo dell'Italia, no? Sono arrivato qui e voi dal vostro punto di vista mi accusate come se io... No, no, non ci sono d'accusa! No, 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 ma io me la presento! Sennò siamo coscienti che siete venuti a fare le passerelle che non avete fatto! Sennò siamo coscienti che siete venuti a fare le passerelle che non avete fatto! Sennò siamo coscienti che siete venuti a fare le passerelle che non avete fatto!